Allora passo la parola al professor Gonella dell'Università di Venezia, che è anche uno dei revisori dell'IPCC, lo dico in italiano per non fare brutte figure con l'inglese, e lascio a lei la parola. Allora innanzitutto ovviamente ringrazio tutti e tutte per l'invito, non solo perché è un onore per me chiaramente, ma perché è un pochino ormai il mio secondo lavoro, quello di cercare di far passare la verità di quello che sta succedendo sostanzialmente. Ed è non una questione di opinione mia, io mi faccio portavoce, come Marika sa benissimo, mi faccio portavoce di una comunità scientifica che compatta, cerca di comunicare in primis ai governanti, ai media e alla gente, senza riuscirci letteralmente da decenni la gravità e l'urgenza di una situazione emergenziale. E quindi è veramente con passione che io cerco di dare una mano anche agli avvocati e a chi in qualche modo è costretto a manipolare le riformazioni scientifiche che non sono sempre facilmente fruibili. Ora si parla di acqua e come giustamente diceva Marika, in realtà parlare di acqua è parlare di un sacco di cose, sia perché l'importanza della risorsa idrica entra all'interno di comparti tra i più diversi, che vanno dal sociale all'ambientale all'economico e quindi gli addentellati dello stato di salute e dell'approvvigionamento idrico sono talmente tanti che certamente non sono io che devo, siete voi che insegnate a me queste cose. Parto dalle risultanze, ho preparato qualche slide, dalle risultanze dell'ultimo rapporto dell'IPCC che è uscito due o tre settimane fa. Ora cerco di condividere lo schermo, ecco dovreste vedere il nostro mondo. Lo vedete? Bene, questo è il mondo e come diceva Marika anche prima, il problema dell'acqua in realtà è un problema che contemporaneamente vi sono momenti o luoghi geografici in cui ce n'è troppo e momenti o luoghi geografici in cui non ce n'è o ce n'è troppo poca. E questi due aspetti del problema acqua in realtà si stanno esacerbando con una velocità che fino a qualche anno fa era persino insospettabile. Cosa sto parlando quindi? Di siccità e di inondazioni soprattutto. Questa è la copertina del rapporto IPCC e vedete quello che dice Antonio Guterres che non è un attivista, è il segretario generale delle Nazioni Unite, il quale dice ho visto molti rapporti scientifici ma niente di simile a questo. Il rapporto odierno dell'IPCC rappresenta l'accusa infamante del fallimento della gestione climatica. Sembra che l'abbia scritto come prefazione all'atto di giudizio, di giudizio universale. Poi dice so che dappertutto la gente è preda dell'ansia e della rabbia, lo sono anch'io. Ora è il momento di convertire la rabbia in azione. Ogni frazione di grado è importante, ogni voce può fare differenza e ogni secondo conta. Ora se a dirlo è il segretario generale delle Nazioni Unite, io mi preoccupo. Se anche non sapessi le ragioni per cui lo dice, io sarei molto preoccupato. E potete rendervi conto tutti di quanto queste affermazioni ricalchino esattamente l'atteggiamento che ha portato a Sud a promuovere l'iniziativa di giudizio universale. Quindi cade veramente nel momento più propizio il fatto che questo tipo di affermazioni venga fatta a livello planetario dal segretario generale delle Nazioni Unite. Chi non fa questa affermazione sono ovviamente i giornali. Ora è ovvio che io vorrei che queste frasi fossero in prima pagina, un giorno sì, un giorno no. Questo è necessario e questo non avviene. Vediamo un attimo, quindi si parla di scenari. L'IPCC lavora proponendo vari scenari. Ve li riassumo in due slide, giusto per sapere di che cosa parla la comunità scientifica. Ne ho fatto un riassuntino in italiano. Questo è il livello di temperatura che viene scelto come livello di base su cui parametrizzare quello che sta succedendo. Quindi in era preindustriale chiamiamo zero il livello di temperatura. Oggi siamo a 1.1 gradi di riscaldamento rispetto al livello preindustriale. Ora le Nazioni Unite prefigurano degli scenari diversi. Costruiti, ah no, prima però giusto per vedere un paio di fotografie che attestino come oggi, quindi in un momento in cui in generale ci si ritiene abbastanza al sicuro ancora, già in realtà siccità e inondazioni stanno colpendo in modo veramente pesante le comunità in giro per il mondo. Qui siamo in Africa e uno dice, beh vabbè, siccità nell'Africa, però qui siamo in Francia, qui siamo in Peru, qui siamo in India, qui siamo negli Stati Uniti. Queste fotografie non possono essere di dieci anni fa, vent'anni fa, trent'anni fa, quarenta anni fa, perché non c'era questa situazione. In Danimarca c'è stata la siccità. E questo è solo in inondazioni. Questa è Beirut, questa è una città cinese di cui adesso mi sfugge il nome, questo è il Guatemala, ma questo è il Canada, questo è il New York City, questa è l'Australia, e queste sono fotografie di quest'anno, o meglio, 21-22. Questa è la Germania. Quindi questo tipo di abitudine che noi stiamo facendo a manifestazioni estreme del clima è da solo più preoccupante di qualsiasi appello che abbia potuto essere costruito. Questa è Londra, questa è Catania, mese scorso. Questa è Venezia, beh, noi siamo più abituati, devo dire la verità che per noi l'acqua alta è una quasi normalità, ma la frequenza e l'intensità dell'acqua alta a Venezia è una cosa che nessun veneziano ricorda. nessuno è stato testimone di acque alte che vanno avanti per settimane e delle onde che si frangono sul colonnato di piazza San Marco. Non è che voi pestate un po' di acqua per terra, vi arriva l'ombelico l'acqua. Bene, stavo dicendo allora che oggi siamo in questa condizione e già oggi succede quello che vi ho mostrato nelle fotografie. L'obiettivo di riferimento delle Nazioni Unite era quello dell'accordo di Parigi del 2015, e cioè rimanere al di sotto di un aumento di un grado e mezzo. Bene, la scienza ci dice che non è più rispettabile qualsiasi cosa facciamo. Lo scenario ottimistico proposto dalle Nazioni Unite è quello per cui tutti gli impegni sottoscritti da tutte le Nazioni alla COP26 di Glasgow verranno mantenuti a livello globale. E già lì andiamo oltre a un riscaldamento di due gradi. Se poi le Nazioni si limitano a rispettare soltanto gli impegni presi fino a 2030, arriviamo a 2.4 gradi. Poi le Nazioni Unite parlano invece di quello che le Nazioni Unite chiamano questo scenario quello del mondo reale, cioè non del mondo dei sogni, in cui la politica globale fa quello che ha promesso di fare, ma dalle azioni nel mondo reale basate sulle politiche attuali. Bene, questo ci porterà a un 2.7 di aumento di temperatura. C'è poi l'opinione degli scienziati. Da un'indagine condotta dalla rivista Nature, il 60% degli scienziati del clima ritiene personalmente, ciascuno di loro, che noi arriveremo sopra ai 3 gradi di aumento di temperatura. Ora, lasciate che ve lo dica, 3 gradi di aumento di temperatura significa sostanzialmente un mondo invivibile. Questa è la realtà delle cose, purtroppo non è un'altra. Significa un mondo in cui la società, le società come le conosciamo, collassano. Per mille motivi, conflitti, siccità, mancanza di cibo, carestie, crolli istituzionali, crolli delle sovrastrutture sanitarie, quindi pandemie. Questo è quello che la scienza compatta, e quindi parlo di migliaia di gruppi di ricerca che tutti insieme condividono continuamente quello che fanno, e quindi parlo di decine o centinaia di migliaia di scienziati che, ogni piesso spinto da molti anni, cercano di avvertire la politica, venendo costantemente inascoltati. Arriviamo quindi all'IPCC. Cosa ci dice l'IPCC relativamente al destino idrico legato a questi cinque scenari? Innanzitutto fa quello che tipicamente fanno le agenzie internazionali, spezzetta il problema in tutta una serie di capitoli e di settori in modo che sia più facile affrontarli. Questo è un atteggiamento che si chiama riduzionista, ridurre un problema in tante parti separate, cercando di risolverle separatamente. Purtroppo questo non è la strada corretta da intraprendere, vedremo perché fra 20 secondi. Fatto sta, insomma, che comunque l'IPCC stessa ritiene che la sicurezza dell'approvvigionamento idrico sia centrale in tutta la problematica connessa alle conseguenze del cambiamento climatico. Perché? Per quello che ho detto prima, sostanzialmente. L'acqua è alla base della produzione di cibo attraverso l'agricoltura. Quando crolla l'agricoltura, tutto il resto crolla, l'intera società crolla, a parte il discorso ecologico per cui le catene trofiche, i predatori, preda, eccetera, eccetera, lì va tutto a ramengo. Oltre a questo ci sono tutta una serie di problematiche che vengono affrontate dall'IPCC, che vanno dall'agricoltura all'industria, all'urbanizzazione, agli usi culturali e le tradizioni degli indigeni, all'erosione del suolo, alla necessità di azioni di adattamento e di mitigazione, conflitti, migrazioni forzate, energia, agricoltura, eccetera, eccetera. Insomma, c'è una sfilza di key risks, che sono i rischi chiave, che in realtà, fatemelo dire, raccolgono una lista di tutti i possibili guai che potrebbero succedere. Ora, volevo mostrarvi questo grafico che è pubblicato ogni anno dal Forum Economico Mondiale. Quindi, diciamo, dagli esponenti tecnici del capitalismo stesso, che ogni anno pubblicano questa mappa dei rischi e cercano, inascoltati persino loro, di avvertire i governi che hanno imboccato una strada senza uscita. Questa è la mappa dei rischi pubblicata nel 2020. Vedete, c'è di tutto, dalle migrazioni involontarie ai cyber attacks, alle crisi del cibo, ai conflitti intestatali, alla perdita di biodiversità, disastri naturali, malattie infettive, eccetera, eccetera. Bene, in questo grafico il segmento che unisce due guai ha uno spessore che è proporzionale all'intensità del collegamento che c'è fra i due guai. Ora, tutti noi capiamo che dove c'è povertà ci sono conflitti e dove c'è conflitti c'è povertà. Però è meno facile capire cosa centri la disoccupazione con la perdita di biodiversità o con le armi di distruzione di massa. Bene, il Forum Economico Mondiale mette in guardia sul fatto che tutti questi rischi sono connessi, tutti questi guai sono connessi. Ed è quello che ha detto Marika poco fa, che parlare di problema idrico in realtà è parlare di problema di un sistema enormemente complesso che raccoglie attraverso una rete di collegamenti fra di loro tutto quanto di negativo può succedere. Quindi, parlare di acqua è parlare di tutto. È parlare di tutto. Queste sono figure tratte dal rapporto IPCC. Per esempio, queste sono le specie che si immaginano rimarranno in condizioni accettabili climatiche in Europa in questi tre casi. Aumento di uno in grado e mezzo e scordiamocelo perché non è più possibile. E qui sotto aumento di 3 gradi, punto 2. Quello che prevedono gli scienziati. Come vedete dai colori qui, ve lo dico io senza che dobbiate leggerlo, l'80% degli insetti sparisce dall'Europa. Non parlo numericamente, parlo delle specie degli insetti. Tra il 40% e il 60% delle piante sparisce da tutto il bacino del Mediterraneo. Salvo un pochino qua giù. Per quello che riguarda i mammiferi, siamo sul 30-40% che sparisce. Non ci vuole uno scienziato per capire che questa è una situazione insostenibile. Insostenibile dal punto di vista del cibo è insostenibile dal punto di vista degli equilibri ecosistemici che garantiscono la pluralità e la biodiversità, la pluralità della vita che popola in questo momento l'Europa. Il PCC fa dei conti molto dettagliati. Credetemi, il rapporto di PCC complessivamente è di 9.000 pagine e coinvolge il lavoro di 13.000 scienziati. Chiaro che nessuno legge le 39.000 pagine, io per primo, però ci sono dei riassunti, è diviso per capitoli, ci sono tutte le fonti. È una lettura interessante, ancorché tecnica, però escono comunque continuamente traduzioni e riassunti e commenti per cui virtualmente questa documentazione è disponibile a tutti i livelli. Chiaramente questa figura non è comparsa su alcun giornale. Questa è la realtà dei fatti. Questo è il motivo per cui chiamare in giudizio un governo che non si occupa neanche dell'informazione di base è, cavolo, non necessario, è esiziale, se mi passate la parola. Questo invece è una serie di grafici che prefigura le precipitazioni rispetto a quello che oggi possiamo chiamare la normalità. Allora, vedete bene che per un aumento di 2 gradi, che è questa fila, abbiamo, va bene, l'aumento di temperatura e le precipitazioni. Dove vedete le macchie marroni vuol dire che le precipitazioni, la pioggia, diminuisce fino al 40%. Dove invece vedete le macchie verdi vuol dire che aumenta. Ora, è chiaro che sarebbe meglio un aumento che un depauperamento del livello delle precipitazioni, però il dato di fatto purtroppo vedete che nel periodo giugno-agosto tutta quest'area rimarrà secca. Ci sarà una siccità che manderà veramente al tracollo tutta la produzione agricola, Medio Oriente, Turchia, Grecia, Italia, penisola iberica, ma su fino alla Francia, fino all'Inghilterra, fino al Galles. E questo per un aumento di 4 gradi. Per un aumento di 2 gradi la cosa sarà leggermente più limitata, però vedete che prima di vedere un'ombretta di verde dobbiamo arrivare su in Polonia. Perché comunque il bacino del Mediterraneo andrà incontro a quella che si chiama desertificazione. Il Sud Italia sarà desertificato. Questa è un'ultima figura che volevo mostrarvi e che parla di acqua in cui mostra già adesso il numero di mesi nei quali la scarsità di acqua è maggiore del 100%. Cosa vuol dire? Che l'acqua disponibile è meno della metà della domanda di acqua potabile. Ora, voi vedete bene una situazione che già siamo messi male, ma è messo male metà degli Stati Uniti, tutta l'Africa del Nord e l'Africa subsahariana. In Sud Africa, l'Australia, l'India, metà della Cina, tutto il Medio Oriente e la penisola iberica e qui non si vede bene, ci sono i puntini rossi anche in Italia. Questa situazione è destinata a peggiorare. Questa purtroppo è la realtà. E vabbè, questo possiamo anche saltarlo. Spero di avere un minuto per mostrarvi questa che è l'ultima slide che voglio mostrarvi ed è una slide di un grafico che compare nel rapporto IPCC che è facile da leggere, però bisogna che qualcuno spieghi un po' meglio perché se uno lo trova direttamente scritto magari non coglie l'importanza del messaggio che porta. vedete, non c'è il tempo qui nell'asse delle X, c'è il valore delle emissioni cumulate, mentre in asse delle Y c'è l'aumento di temperatura rispetto all'era preindustriale. Cosa ci dice questo? Ci dice che ogni volta che emettiamo una qualsiasi quantità di CO2 o altri gas serra, la temperatura aumenta perché l'aumento di temperatura, anche se molti non capiscono il messaggio perché non gli viene dato il modo corretto, non dipende da quello che emettiamo, ma da quello che abbiamo emesso. Dipende da quanta roba c'è accumulata nell'atmosfera. quindi qualsiasi contributo noi diamo farà aumentare la temperatura. Quindi ridurre le emissioni cosa vuol dire? Vuol dire spostare avanti nel tempo il problema. Le emissioni vanno fermate. È l'unico modo per fermare il riscaldamento globale. Se noi semplicemente le rallentiamo, lasciamo da pagare il conto ai nostri figli o ai nostri nipoti. Solo per poter continuare a fare, diciamo così, la nostra bella vita. E un'altra cosa interessante è, levo la mia faccia da qui, di quanto la temperatura aumenterà dipende esclusivamente da quanto emetteremo a partire da oggi. Questa è un'affermazione di una tale potenza, retorica ma anche di contenuto, cavolo, io vorrei trovarla scritta, vorrei vederla scritta sempre dovunque nei mezzi di comunicazione di massa. Quello che succederà dipende da cosa faremo a partire da oggi, proprio perché la temperatura, l'aumento di temperatura dipende dall'accumulo di gas serra. Questo cambia la prospettiva. Ok. Bene, questo comunque è la slide conclusiva dell'IPCC che richiama alla necessità, loro lo chiamano water management, cioè alla gestione dell'acqua. Propongono tutta una serie di, chiamiamole, soluzioni che però sono volte soprattutto all'adattamento ai danni o alla mitigazione del danno, cioè non vanno alla radice del problema, che è quello che invece cerca di fare giudizio universale. Però, chiaramente, si tratta di cose su cui varrebbe la pena di parlare, che varrebbe la pena di approfondire una per una. Quindi, per esempio, basterebbe il working with nature, che significa adattare le politiche idrologiche al funzionamento sistemico dell'ecosistema a diverse scale. Questo è un lavoro per analisti sistemici, per scienziati, insomma. Va bene, io direi che ho finito. So di non avervi messo di buon umore. E dall'altra parte è il mio primo dovere. Io devo dire la verità. Nulla di quello che vi ho detto è una mia opinione. Vi ho portato il messaggio della comunità scientifica. Sei tu.